Raga, per questo video corto voglio una marea di commenti, dobbiamo fare il record di commenti sul mio canale. Ehi, tu che stai guardando questo video, ricordati di farmi una domanda qua sotto sui commenti, perché io risponderò alle domande domani. Quindi ricordati di lasciarmi una domanda qua sotto, così farò un Queen A molto interessante. Detto questo ricordati di lasciare un like, commentare e iscrivimi al canale. Ah, soprattutto, commentare.